Buon pomeriggio dall'ippodromo delle Capannelle, prima corsa par Kevin Ucchetti, un miglio per sole femmine di due anni. Sono in Nove Alvia, prima fila per Dangerous Uves, Dianador, Donaz, Daphne AMG, Desert Storm Firm, De Linda Luby e Dynamo Kambar, seconda fila per Darling e Diana Del Circeo. Rinuncia al lancio, in prima fila Dynamo, Kambar, partono piano Dianador e Donaz. Il lancio vede in lotta le più attese, cioè la favorita Desert Storm Firm e Daphne AMG, con Desert Storm Firm che supera facilmente Daphne AMG. La terza posizione è per Dangerous Uves, a precedere Dynamo Kambar che ha trovato posto in quarta posizione, a precedere Donaz e poi tutte le altre, tra le quali, tra l'altro ha sbagliato, De Linda Luby. Fila indiana dopo 400 metri con Desert Storm Firm che comanda liberamente su Daphne AMG, Dangerous Uves, poi Dynamo Kambar, ancora Donaz e a completare il gruppetto delle prime, Diana Del Circeo, più indietro invece Darling. Sempre lunga fila indiana, situazione tattica che non muta quando Desert Storm Firm e Alessandro Gocciadoro giungono all'apice della seconda curva, stanno per completare il mezzo miglio iniziale. Sempre in vantaggio il 5 di Desert Storm Firm davanti al 4 di Daphne AMG, l'1 di Dangerous Uves, il 7 di Dynamo Kambar. E ancora non ci sono variazioni, ora sposta Daphne AMG per andare a sollecitare Desert Storm Firm, le due ingaggiano Lotta Serrata davanti a Dangerous Uves che precede sempre Dynamo Kambar. Desert Storm Firm replica Daphne AMG quando siamo al paletto dei 400 finali, le due seguite piuttosto da vicino da Dangerous Uves sulla quale ha spostato ora Dynamo Kambar, più indietro Diana del Circeo con all'interno Donuts, la retta d'arrivo con Desert Storm Firm che sembra in grado di svincolarsi da Daphne AMG che è costretta a ripiegare nella sua scia, poi Dynamo Kambar che sposta all'argo mentre sbaglia Dangerous Uves, Desert Storm Firm che ha preso chiaro vantaggio a Daphne AMG e Dynamo Kambar vince facile. La favorita Desert Storm Firm con Alessandro Cocciadoro da un capo all'altro davanti a Daphne AMG che controlla Dynamo Kambar per la piazza d'onore, l'orale più attese al palo nell'ordine più gettonato con la vittoria della favorita a mezzo Desert Storm Firm numero 5 davanti al 4 di Daphne AMG e al 7 di Dynamo Kambar. Alessandro Cocciadoro la guida al training della Porta Colori di Gustavo Matarazzo figlia di Make It Happen e The Blessed Virgin Desert Storm Firm, terza corsa in carriera e primo successo per questa puledra di Gustavo Matarazzo che in percorso di testa sfugge nettamente a Daphne AMG e Dynamo Kambar. È tutto, linea allo studio. Grazie. Grazie. Grazie.